benvenuti a un minuto di storia con mario il 23 aprile è il giorno di william shakespeare si è morto il 23 aprile 1616 ma è anche nato il 23 aprile del 1564 a stratford upon haven è certamente shakespeare il più grande autore teatrale della storia e il responsabile dello sviluppo colossale a livello globale della lingua inglese to be or not to be whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles and by opposing and them l'amleto che straordinario monologo l'essere o non essere william shakespeare muore un giorno dopo michel de cervantes l'autore del donkey shot anche lui muore il 22 aprile 1616